Sensibilizzare i più piccoli all'uso consapevole della risorsa acqua attraverso approfondimenti, esperimenti ed esempi concreti su come abbattere gli sprechi. E Crosswater, il progetto tematico e trasfrontaliero che collega Puglia e Albania e insegna ai ragazzi delle scuole di Bari, Foggia e Andrea una corretta mentalità in tema di uso e risparmio della risorsa idrica. Circa 700 i ragazzi delle scuole primarie coinvolti in incontri animati da un team di formatori e comunicatori che spiegherà loro anche attraverso l'uso di kit didattici composti da schede e stickers quanto importante sia l'acqua per la vita di tutti gli esseri viventi e come riutilizzarla nella quotidianità. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di quattro iniziative pilota in Puglia, Molise, Albania e Montenegro, incentrate sulla protezione delle risorse idriche e sull'ottimizzazione della gestione dell'approvvigionamento idrico. Bambini e bambini che stiamo incontrando nelle scuole attraverso uno show lab, un piccolo spettacolino ricco di esperimenti laboratoriali attraverso i quali stiamo scoprendo com'è l'acqua, com'è fatta, che cos'è, quali sono le sue immense e straordinarie proprietà. Stiamo partendo dalla conoscenza di questa sostanza per arrivare poi con deduzioni immediate a capire la sua grande importanza e quanto sia importanza prendere su di sé questi tre straordinari superpoteri. Uno risparmiarla, due riutilizzarla e tre proteggerla senza mai inquinarla.